Questo è un brano tratto da un libro, questo motivo d'orgoglio del nostro gruppo traggio testi anche per il libro in questione Dopo il libro di Enoch, una cosa un po' più recente Il libro in questione è Nessun dove di Neil Gaiman, che parla di due assassini che sono Krupp e Wanderer Dove si ambienta? Perché sta anche molto lì, scusa, è interessante, è l'onda di sotto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti